Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, Preservaci dal fuoco dell'inferno, Porta in cielo tutte le anime, Specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, Non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione, di Maria Immacolata e di tutti i Santi, Concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diaboni, Ferventi religiosi, religiose e missionari, Alla Tua Chiesa. Il primo mistero glorioso è la risurrezione di Gesù. In questo mistero risentiamo il grido gioioso del mattino di Pasqua. Cristo è risorto. Cosa significa? L'ultima parola non è il venerdì santo, Il giorno della morte del giusto. L'ultima parola non è il sabato santo, Il giorno in cui tutto è sempre finito. L'ultima parola è la Pasqua, La vittoria della vita sulla morte, La vittoria del bene sul male, La vittoria della luce sulle tenebre. E noi siamo sicuri che questa sarà la conclusione della storia, La vittoria del bene sul male. Padre nostro che se ne scegli, Sia santificato il Tuo nome, Venga al Tuo Regno, Sia fatta la Tua volontà, Come in cielo, così in terra. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetto a fare donne, E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave o Gesù, perdona le nostre colpe, Preservaci dal fuoco dell'inferno, Porta in cielo tutte le anime, Specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, Domando, perdono, Per quelli che non credono, Non adorano, non sperano e non ti amano, Per intercessione, Di Maria Immacolata e di tutti i Santi, Concedi, Signore, Santi genitori, Santi vescovi, Sacerdoti e diaconi, Ferventi religiosi, Religiosi e missionari, Alla Tua Chiesa. Il secondo mistero glorioso È l'ascensione di Gesù al cielo. Con l'ascensione Gesù non ci ha abbandonato, Perché ha detto chiaramente E con divina sicurezza, Io sono con voi tutti i giorni, Fino alla fine del mondo. Anche nei momenti bui, Nei momenti drammatici della storia, Ne abbiamo la certezza che Gesù è con noi, E con Lui possiamo attraversare Qualsiasi tempesta, Qualsiasi bufera. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Rimetti a noi i nostri debiti, Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, Non abbandonarci alla tentazione, Ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, Madre di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, Madre di Dio, Tu sei benedetta, Madre di Dio, e benedetta, E benedetta, E benedetta, E benedetta, E benedetta, E benedetta, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, Tu sei benedetta, Madre di Dio, E benedetta, E benedetta, E benedetta, E benedetta, E benedetta, E benedetta, Della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, e benedetta, E benedetta, E benedetta, E benedetta, E benedetta, Santa Maria, madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso è nell'ora Della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescoli, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiosi e missionari, alla Tua cosa. Il terzo mistero glorioso ci porta nel Cenacolo. Gli apostoli sono raccolti in preghiera attorno a Maria e aspettano il compimento della promessa di Gesù, che aveva detto, vi manderò lo Spirito Santo. Improvvisamente sentono un'effusione nel cuore, una forza che li spinge fuori dal Cenacolo e inizia il cammino missionario della Chiesa nel mondo. Il cammino che oggi dobbiamo continuare noi. Noi siamo chiamati ad essere missionari in questo mondo che ha drammaticamente bisogno di ritornare al Signore. Anche a noi Gesù ha detto, andate in tutto il mondo e prelicate il Vangelo ad ogni creatura, perché senza questa buona notizia il mondo muore nella tristezza. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Lasci oggi il nostro Padre e il Comuniano, e le metti a noi i nostri detti, come anche noi rientriamo ai nostri seguitori, e con la traduzione della tristezza, ma libera della tristezza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il tuo valore della tua morte, e l'amore. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione, di Maria immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. In Maria si compiono perfettamente le parole del suo Magnificat, di rovescia i potenti elettroni e i nasa agli umili, e Maria è la creatura più umile che si è apparsa nella storia dell'umanità. Padre nostro. Si stende il cielo, si è santo di capo di noi, e l'amore di noi, si è santo di capo di noi, e l'amore di noi, si è santo di capo di noi, come il cielo così terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta al Padre d'Ono, e benedetta al frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, perventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quinto mistero glorioso è il Paradiso, che è la meta della nostra vita. Ogni giorno che passa è un passo verso il Paradiso. E dal Paradiso Maria ci segue, in Paradiso fa la mamma, perché Gesù le ha detto dalla croce, donna, ecco tuo figlio, è quel figlio a ciascuno di noi. Quanta consolazione, quanto conforto ci dà questa certezza. Maria, dal cielo, continua a far la mamma. E forse a talvolta, senza che ce ne accorgiamo, Maria è intervenuta nel cammino della nostra vita. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lascia oggi il nostro Padre con il piano, e rimetti a noi i nostri detti, come anche con il piano ai nostri spirituri, e non abbandonarci a scendere da sezioni, ma liberaci al Padre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra famiglia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra famiglia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta a fare donne, e benedetto Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi il calore. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi il calore. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi il calore. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amén. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi. Concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, per venti religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, cementi e piangenti in questa valle di me. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del Cielo, che sei Dio, figlio redentore del mondo, che sei Dio, Spirito santo amore, che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine, Vergine Prudentissima, Vergine degna di Onore, Vergine degna di Lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Vergine specchio della Santità divina, Vergine, segne della Sapienza, Vergine causa della nostra gioia, Vergine Tempio dello Spirito Santo, Vergine tabernacolo dell'eterna gloria, Vergine arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, soccorso dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del santo rosario, regina lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, preghiamo, o Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo, tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti come madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno, le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo appalaci del cielo e metti le ali al cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire, perché la risurrezione di Gesù è un seme divino dentro di noi che un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Aiutaci, oh Maria, ad iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il Signore sia con voi. Si ha benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. La Vergine Santissima entri in tutte le case, soprattutto nelle case dei sofferenti e negli ospedali dove c'è una persona che soffre, dove c'è un crocifisso che vive accanto a Gesù crocifisso e porti la carezza della sua benedizione. vi benedica, vi protegga, vi illumina e vi conforti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore. Andate in pace. E in pace. Siano dato Gesù Cristo. Siano dato Gesù Cristo. Siano dato Gesù Cristo.